In calo di consensi, travolto dalle critiche, la sua avventura è stata definita persino il Titanic Macron, ma il presidente francese non si arrende. E dopo il rimpasto di governo avvenuto a seguito dell'addio più pesante, quello del ministro dell'interno Gérard Colombe, si rivolge alla nazione con un messaggio televisivo. Nessuna svolta, nessun cambiamento di rotta, dice il presidente francese, c'è un disegno di azioni che non ha perso la sua intensità e che oggi sarà ancora più forte. Significa che andrà avanti con le riforme, la prossima sarà quella delle pensioni, nonostante il calo dei sondaggi. Dopo quasi un anno e mezzo l'enfant prodige della politica francese ha perso diversi pezzi e questo venerdì al posto dell'ex ministro dell'interno è arrivato il fedelissimo Christophe Castaner. Cambio anche al ministero della cultura, dell'agricoltura e della coesione territoriale.